Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi andiamo a sbustare segreti dell'eternità queste bellissime quattro buste trovate in edicola e quindi partiamo allora cerchiamo di non rovinare le bustine Luce Kyo Costellazioni Artista Amico, Compagno Naga Infernoid Piatti Palloncini delle Illusioni UA Tattiche di Turnover qui potrebbe esserci una Ultra e invece no, solo Rara in questo pacchetto Unizombi, Dispetto degli Gnomi fortissima carta da side usata qualche anno fa molto forte Descobot 003 e Yusenju Magat Allora, avevamo Allora, la Ultra potrebbe essere tra la tra la quinta e la sesta carta quindi adesso proviamo a fare il trick e mettiamo le ultime due facciamo i giochini Allora, Luce Kyo di Costellazioni Artista Amico, Compagno Naga Imboscata Bestia Spirito Artista Amico Sharpal Eone di Fuoco ho sbagliato nome Alternazione Pendulum Descobot 003 Gigabyte Principessa Danzante del Necroz molto forte e abbiamo trovato una Super Abile Mago Blu molto bella come Super Ragazzi, ricordiamo di sponsorizzare anche Mind Gaming per i porta accendini e che gospiata scuriamo lo boosting Allora, Satè Cavaliere Cappella Sollevatore dei livelli Muro di Disturbo qui non ho fatto il giochino quindi Imboscata Bestia Spirito Osservatore del fronte e Ragazzi, una Ultra Cavaliere del Cielo Nermint Lancia Divina Dragonità giocatissima adesso nei nuovi mazzi meta Dragon Link e tutti gli altri mazzi draghi che giocano Dragonity devono assolutamente giocare questa carta e l'abbiamo trovata in Segrete e l'Eternità è tonato questo pacchetto Raydraptor Falco Ascendente e Unizombi tantissimi Unizombi Fantastico Wow Ultimo pacchettino ragazzi facciamo il trick che è che vediamo se porta bene Allora 4 No è così Ok Dovrei averlo fatto bene Allora Artista amico Punta Aquila Artista amico Timbro Tartaruga Doppio buco trappola Allora ragazzi è la prima volta che vedo questa carta e gioco Trap Tricks Cavaliere Gemma Lapis Esplopossum Cavaliere Giocattolo e l'ultimi le ultime le ultime no scusate Golem Go 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 forma dorata e le ultime due ok Roda amante Drago e Giuseppe e Giuseppe e Giuseppe e Giuseppe e Giuseppe e Giuseppe Ok ragazzi così abbiamo finito lo sbusto in questi quattro pacchettini che abbiamo trovato abbiamo trovato una super ultra in soli quattro pacchetti veramente forte essendo livello 2 giocata in diversi mazzi abbiamo trovato dei supporti Necroz dei supporti zombie il supportino lancio dragonità e tantissimi artisti d'amico e carte che possono essere utili ai vostri idee se trovate questo pacchettino acquistatelo e fatemi sapere come andate il vostro sboosting inoltre se vi è piaciuto il video vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like bene ragazzi così abbiamo finito ci rivediamo al prossimo video